Chiuse le indagini della procura di Messina per il terzo filone di indagini dell'operazione Tecno che lo scorso aprile ha scosso profondamente il consorzio autostrade siciliane portando alla sospensione dalle funzioni di sei dirigenti. Adesso per il GIP l'indagine è chiusa e gli negati sono in tutto 59 ma non è l'unica novità rispetto a sei mesi fa il procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e la sostituto Stefania Larosa nell'atto di chiusura indagini oltre alla truffa e al falso ora contestano anche il peculato aggravato. Oltre un milione di euro il denaro acquisito indebitamente secondo D e procura dagli indagati con insomme singole acquisite oltre allo stipendio anche tra i 40.200.000 euro per dei presunti incentivi progettuali. Secondo l'accusa questi incentivi elergiti per attività tecniche mai portate a termine o esistenti solo sulla carta e relativi a una settantina circa di progetti finanziati tra il 2012 e il 2013 sarebbero stati distribuiti ad un gruppo ristretto di dipendenti dell'ente di contrado scopo. Prima udienza gennaio del prossimo anno nell'aula della corte d'assise e se invece i due tronconi dell'inchiesta verranno riuniti non è escluso che il processo possa celebrarsi nell'aula bunker del carcere.